Gli ha visti tutti quanti, poi ha detto, vabbè quasi quasi non vengo, poi però quando ha visto avete fatto anche i corti si è sentito coinvolto e ha partecipato con grande entusiasmo, grazie. Io vi faccio i miei complimenti e vi saluto perché devo fare una cosa. Arrivederci. Arrivederci. Aldo, ma pensa che emozione, siamo qui con Danny DeVito, incredibile. Ah, pensavo fosse il telegatto. Un attimo che... Ok, che cosa chiamare? Come chiamare? Come chiamare la famiglia? Ok. Sì? Eh. Zia Caterina, sono qui in televisione, mi vedi? Vincino a Danny DeVito. Scusi, ok. Zia Caterina, sono qua vicino... Pronto? What? Eh, passami la zia Caterina, mi vengono il coseno, ma questo problema ti ho detto. Eh, è la famiglia. No, no, no. Mi scusi? No, no, mia famiglia. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok. È l'occasione. What happened? There's no work. They went out. Io non ti capisco, però... You don't understand? Ma vera vede... Non lo so, ho visto. No, no, niente. No, mi sembrava l'invasione degli ultracorti. Andiamo a posto. Grazie, allora, Adorno, Giovanni e Giacomo. Va bene. E grazie a Tegni DeVito. Good work. Thank you, Mr. DeVito. Thank you so much. Spettatori maschi, è il vostro momento. Sta arrivando Maria Grazia Cucinotta.